ciao a tutti eccoci al terzo appuntamento con i miei libri sparsi ospite di noi frammentati di siena oggi vi parlerò di questo libro l'affare vivaldi di federico maria sardelli sellerio editore è stato un'occasione per riscoprire un grande musicista antonio vivaldi appunto il libro parla della riscoperta dei manoscritti di vivaldi con tutte le sue opere che erano andate perse dimenticate per due secoli ma vi racconto un po brevemente la storia di vivaldi vivaldi è nato nel 1678 a venezia e già da piccolo aveva un grandi problemi di respirazione probabilmente aveva una un'asma e la mamma per fece un voto e praticamente se il bambino si sarebbe salvato lo avrebbe destinato al signore infatti nel 1703 vivaldi viene ordinato prete e viene soprannominato infatti il prete rosso rosso perché aveva i capelli rossi era figlio di un barbiere che però sapeva suonare il violino e che insegnò appunto al suo figlio a suonarlo e vivaldi eccelse in questa in questa cosa era un grande suonatore ed era un grande compositore la sua musica ebbe tanto successo i primi tempi poi più avanti negli anni la sua musica cadde in disuso praticamente prese vigore la scuola napoletana quella di pergolesi di cimarosa di paesiello e la musica di vivaldi passò di moda per cui la gente non voleva più ascoltarlo vivaldi diciamo che faceva agli orecchi delle persone di quel tempo un po l'effetto che faceva a me da bambino claudio villa era una cosa passata di moda poi uno lo riscopre con con gli anni la musica valida però vivaldi passò di moda e non vendeva più niente il colpo di grazia glielo dette la gerarchia ecclesiastica che gli vietò di rappresentare un'opera a Ferrara per la quale vivaldi aveva investito tutti i suoi soldi perché era anche un imprenditore cioè per rappresentare quest'opera lui aveva anticipato tutti i soldi che servivano per i musicisti i cantanti i ballerini gli sceneggiatori tutto quello era l'indotto dello spettacolo la gerarchia ecclesiastica gli vietò di fare quest'opera a Ferrara di recarsi a Ferrara di rappresentare l'opera perché era un prete che non celebrava la messa e si accompagnava ad una donna che secondo loro era la sua amante che era anche una delle cantanti principali della sua opera in realtà lui non celebrava la messa perché come avevo detto soffriva di asma e quando celebrava la messa gli prendeva la tosse in continuazione doveva interrompersi sempre e quindi chiese di essere dispensato dal celebrare la messa insomma pieno di debiti gli toccò fuggire da Venezia e sperò di trovare più fortuna in Austria chiedendo all'imperatore Carlo VI se poteva diventare il compositore di corte e rappresentare le sue opere a Vienna a Vienna gli fecero fare una lunga anticamera prima di ricevere l'imperatore e Vivaldi sempre più ammalato sempre più indebitato si trovò in grosse difficoltà finché purtroppo un giorno l'imperatore mangiò un bel piatto di funghi e morì avvelenato e Vivaldi cadde definitivamente in disgrazia anche perché per il lutto che ci fu in tutto l'impero chiusero tutti i teatri Vivaldi finì i soldi finì la salute e finì proprio anche la vita morì e fu buttato in una fossa comune così come se fosse un nessuno e purtroppo diventò un nessuno perché la sua musica fu completamente dimenticata nessuno ricordava più chi era Vivaldi pensate per gran parte del 1700 tutto il 1800 fino al 1925 quando riapparvero questi manoscritti di cui si parla nel libro ecco questa è la storia incredibile del ritrovamento di questi manoscritti ed è romanzata da Federico Maria Sardelli ma è veramente un giallo di come siano successe le cose il libro è documentatissimo i manoscritti furono ritrovati grazie all'intuito e all'ingegno di due personaggi che Sardelli definisce eroi civici Luigi Torri e Alberto Gentili uno direttore della Biblioteca Nazionale di Torino un altro direttore d'orchestra che sapeva leggere la musica bene leggete il libro perché racconta come questi manoscritti siano passati di mano in mano e anche da smembramenti di eredità perché facevano parte di una biblioteca di una raccolta di un nobile veneziano che poi l'ha venduta e è passata con varie vicissitudini e ha rischiato di perdersi completamente quindi pensate Vivaldi la musica di Vivaldi nessuno la conosceva per tutto il 1800 e i primi anni del 900 sì, Bach l'aveva riscoperto e aveva ritrascritto alcune cose ma i musicologi lo hanno scoperto dopo, a posteriori la scoperta degli anni 20 ha fatto sì che poi invece l'opera di Vivaldi ritornasse a splendore pensate nel 1939 la musica di Vivaldi è tornata a essere suonata e l'ha fatto all'Accademia Musicale Chigiana grazie appunto al conte Chigi Saracini che volle a tutti i costi riavere questa musica nelle settimane musicali senesi andate all'Accademia Musicale Chigiana in via di città, quando entrate troverete una lapide che dice in questa sede dell'Accademia Musicale Chigiana la gloria di Antonio Vivaldi, musico veneto, fu rivendicata dopo due secoli quando nel settembre 1939 per volontà del conte Guido Chigi Saracini nacquero le settimane musicali senesi pensate, il silenzio della musica, l'ignoranza, nessuno sa che questa cosa esiste e improvvisamente torna la musica di Vivaldi nel libro troverete tanta documentazione è piacevole da leggere perché Federico Maria Sardelli oltre ad essere un grande musicista e uno degli esperti maggiori di Vivaldi al mondo è anche una penna satirica, è un disegnatore, chi legge il vernacoliere lo conosce sotto questo aspetto ma è anche una persona molto seria che ha fatto un'indagine veramente accurata in fondo troverete anche tutti i documenti su cui si basa la sua ricerca buona lettura e buon ascolto della musica ciao 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 ciao